diventa completa al 100%, per cui è un momento importante, l'ho detto in campagna elettorale, c'è un nuovo sindaco, c'è un nuovo prefetto, c'è un vescovo che non è da molto che è arrivato, che è disponibile, ci sarà un nuovo magnifico rettore, ci sono nuovi direttori e presidenti per quanto riguarda le aziende sanitarie e il polo sanitario importante per quanto riguarda la città, bisogna fare squadra, non bisogna fare nient'altro, non è più possibile e non è concepibile che ognuno guardi le proprie orticelle, qui deve diventare una regia, deve esserci una regia unica per andare a conquistare quel posto che noi meritiamo, che sia sanitario, che sia il turismo, che sia tutto quello che vuoi, qui noi abbiamo diverse possibilità, dobbiamo riportare la città al fasco che merita. Grazie. Grazie.